L'Ossende è quello dell'Abruzzo e Molise, nome e cognome? Nicola di nome e Salvatore di cognome Nicola, anzi Salvatore, qual è l'ingrediente speciale che è usato in Abruzzo e Molise per fare la pizza? Noi abbiamo un classico, tipico ingrediente che ci identifica a livello regionale e nazionale, che è la ventricina dell'Alto Vastese, un salume tagliato a punta di coltello della provincia di Chieti, aromatizzato con peperone rosso, trito, dolce e piccante e in alcune zone anche con dei semi di finocchio Grazie a Nicola Salvatore Grazie a Nicola Salvatore Grazie a Nicola Salvatore